Si chiama Una Rete Sociale per l'Alzheimer, ci può illustrare un po' il progetto? Il progetto è volto a sensibilizzare le comunità, piccoli e grandi comuni della Toscana, per creare una consapevolezza sul problema Alzheimer e demenza, che è la premessa anche per l'espressione di una solidarietà da parte dei cittadini. Molto può essere fatto anche con poco, per esempio creare in un comune occasioni di incontro con i familiari dei malati, ma anche perché no facilitare un teatro, la frequenza di un teatro, un cinema, che sono occasioni importanti perché la malattia praticamente rompe le relazioni sociali della famiglia. Che incidenza ha questa terribile malattia? I casi stimati sono stimati perché non esistono registri, a livello nazionale sono circa un milione. Nella regione toscana si parla di 86 mila casi, sono numeri molto grandi, però noi come associazione abbiamo smesso di fare il terrorismo dei numeri, cioè bisogna occuparsene perché i casi sono tanti, perché poi i bisogni sono molto differenziati dalle fasi iniziali a quelle più avanzate della malattia. Quello che noi chiediamo alle istituzioni come prima cosa è una lettura dei bisogni, che sono i bisogni di cura del malato e i bisogni di sostegno della famiglia. Nonostante che la famiglia abbia subito nel nostro paese un'evoluzione grande, però ancora oggi l'80% e più dell'80% dei malati di Alzheimer vive ed è assistito in famiglia. Quali sono le difficoltà? Ci sono anche dei modi per contrastare la malattia o per rallentarla? Questa è una cosa molto importante sulla quale il progetto è rivolto, perché ci sono delle condizioni di fragilità che sono semplicemente legate anche all'età delle persone, nelle quali con uno stile di vita adeguato la malattia si può contrastare. Quindi è chiaro che questa malattia ancora non si conosce, non si sa prevenire, non si sa guarire, arrestare, anche se la ricerca ha avuto negli ultimi mesi dei risultati importanti. Però molto si può fare per contrastare la malattia, sia nelle persone che non hanno questa diagnosi e che stanno bene e addirittura anche nei malati, cioè l'evoluzione della malattia in una persona malata in termini di manifestazione e di perdita delle funzioni può essere contrastata con uno stile di vita adeguato. Qual è questo stile di vita? È quello che tutti noi conosciamo come stile di vita sano per prevenire le malattie croniche, quindi non fare una vita sedentaria, avere delle occupazioni, delle passioni, un controllo dell'alimentazione e anche una vita in relazione, perché di relazione si vive.